259 casi di contagio ieri, 251 casi oggi. Tradotto, se pochi giorni fa la cabina di regia sanitaria delle Marche guardava con preoccupazione all'effetto delle ferie di Ferragosto sull'andamento dei casi di coronavirus in regione, alla chiusura di agosto ci si comincia ad accorgere che i timori erano fondati. Il post Ferragosto presenta infatti numeri praticamente raddoppiati rispetto ad un paio di giorni fa con la percentuale di positività al contagio salita al 16% e il tasso cumulativo di incidenza passato in quattro giorni da 69 a 77 casi ogni 100.000 abitanti. L'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini non nasconde le preoccupazioni per un agosto che ha registrato il triplo di casi rispetto al 2020 a fronte di un milione di marchigiani vaccinati con doppia dose. L'effetto ferie però è evidente sul fatto che gran parte dei contagi si stanno concentrando sui grandi centri costieri, Civitanova su tutte, mentre nelle aree interne si registrano ben 98 comuni covid free. Ad esempio nella provincia di Pesaro Urbino sono 18 i comuni in cui si rileva un confortante zero alla voce contagi. Il report odierno racconta invece di 251 nuovi contagi con 38 casi a Pesaro Urbino. Macerata risulta la provincia più colpita con 87 casi. Dopo tante giornate senza lutti torna a registrarsi un decesso, quello di una 75enne maceratese con patologie pregresse. Da inizio pandemia sono 3046 i marchigiani venuti a mancare. I dati sull'ospedalizzazione raccontano invece di 76 contagi, cioè due in meno di ieri ma con 12 degenze in terapia intensiva, ovvero una in più di ieri.